Attivare servizi web sulle stampanti HP. L'attivazione di servizi web consente alla stampante di comunicare in modo sicuro tramite Internet, con i servizi di stampa connessi al web, come servizi di stampa su cloud HP Print Anywhere e HP ePrint e di consegna HP Instant Ink. Accertarsi che la stampante sia collegata a una rete cablata o connessa a una rete wireless e disponga di una connessione Internet attiva. Se si collega la stampante a un computer con un cavo USB, i servizi di stampa connessi al web non funzionano. Se la stampante è collegata con un collegamento cablato , verificare il cavo e le spie sulla porta Ethernet della stampante. La spia di collegamento verde dovrebbe essere accesa e fissa, mentre la spia di attività arancione dovrebbe lampeggiare quando il cavo è collegato. Se la stampante è connessa con una connessione wireless, accertarsi che la funzione wireless sia attiva e che la stampante sia connessa la stessa rete del computer. Alcune stampanti dispongono di un'icona wireless e una spia blu sulla loro parte anteriore. Se la stampante ha una spia blu e tale spia è accesa e non lampeggiante, la stampante è connessa. Come attivare servizi web sulle stampanti con uno schermo a sfioramento o un display LCD. Se la stampante dispone di uno schermo a sfioramento o un display LCD, procedere con le seguenti fasi. Sul pannello di controllo, premere l'icona di HP ePrint. Se l'icona di HP ePrint non è presente sul pannello di controllo, accedere a Configurazione servizi web, Configurazione rete o Impostazioni wireless per aprire il menu Servizi web. Se viene visualizzata una schermata di riepilogo, Servizi web è già attiva. Se viene chiesto di attivare Servizi web o se viene visualizzata la configurazione di HP ePrint, seguire le istruzioni per eseguire l'attivazione o la configurazione. Se viene chiesto di aggiornare il firmware, premere OK. Come attivare servizi web sulle stampanti senza uno schermo a sfioramento o un display LCD. Se la stampante non dispone di uno schermo a sfioramento o un display LCD, utilizzare la pagina iniziale della stampante, nota anche come Embedded Web Server, Server Web Integrato o IWS, per attivare Servizi web. Per accedere al server IWS per la stampante, stampare prima una pagina dei risultati della configurazione di rete o del test della rete wireless, mediante le combinazioni di pulsanti sul pannello di controllo della stampante. Nota. Potrebbe essere necessario consultare la documentazione della stampante per la corretta combinazione di pulsanti. Per molte stampanti, premere contemporaneamente i pulsanti Wireless e Informazioni, oppure premere contemporaneamente i pulsanti Wireless e Avvia Copia nero. Per le stampanti HP Deskjet 6000 e 6400, Envy 6000 e 6400 e Tango, tenere premuto il pulsante Informazioni finché tutti i pulsanti del pannello di controllo non si illuminano, quindi toccare contemporaneamente i pulsanti Informazioni e Riprendi. Individuare l'indirizzo IP della stampante sullo stampato. Per aprire la pagina iniziale del server IWS della stampante, digitare l'indirizzo IP della stampante nella barra degli indirizzi del browser, quindi premere Invio. Se viene visualizzata una finestra di accesso o relativa a un certificato, completare le informazioni per aprire il server IWS. Se viene visualizzato un certificato di sicurezza del sito web, fare clic su Continua per aprire il server IWS. Se si apre una finestra di accesso, digitare il PIN riportato sull'adesivo UPC della stampante situato sul fondo, o sul retro della stampante, o la password impostata dall'amministratore della stampante. Nel server IWS, fare clic sulla scheda Servizi web. Se la scheda non è disponibile, la stampante non sopporta Servizi web. Se viene visualizzata una pagina di riepilogo, Servizi web è già attiva. Se viene visualizzata una pagina di configurazione, seguire le istruzioni per attivare Servizi web. Se non è possibile attivare Servizi web, accertarsi che il firmware della stampante sia aggiornato. Fare clic sulla scheda Playlist di YouTube per visualizzare i video di HP in altre lingue. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP. Grazie. 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 Grazie.